La ventiquattresima edizione del Festival delle Serre di Cerisano continua a regalare suggestioni infinite e atmosfere incantate, in un clima di massima spensieratezza e serenità. Tutto questo grazie anche ad una massiccia task force messa in campo dall'amministrazione comunale, che non ha lasciato nulla al caso. Sono numeri importanti, quasi tutti volontari, nel senso che la maggior parte sono anche i dipendenti comunali, a cui va il mio ringraziamento personale, ma il resto sono semplici cittadini che hanno voluto contribuire con il loro impegno, con la loro dedizione, sacrificando delle ore del pomeriggio e della sera, mettendole a disposizione della comunità per regolamentare, per favorire la migliore fruizione degli spettacoli. Quindi a loro va il mio ringraziamento, ma va alla popolazione cerisanese, che ha dimostrato grande sensibilità, grande prontezza per offrire dei servizi, ma soprattutto per far capire che Cerisano è aperta per accogliere turismo in tutto l'anno. Il piccolo borgo da una settimana si è trasformato in un grande palcoscenico, con diverse location disseminate negli angoli più belli e accattivanti del paese, che fanno da cornice a spettacoli di altissimo livello, tutti volti a richiamare e celebrare l'estro e la cultura partenopea. Un filone che è stato perfettamente interpretato dal concerto jazz Tony Esposito Experience, che ha catapultato il numerosissimo pubblico nel sound metropolitano e in tutte le espressioni musicali della viva città napoletana, con percussioni, ritmi frenetici, giochi elettronici e le note struggenti del sax di un incredibile Marco Zursolo. Ironia e leggerezza hanno contraddistinto un ricordo appassionato dedicato a Totò, dal titolo Totò è sempre Totò, di Davide Carpino, una pièce che ha ripercorso la storia e la carriera del grande artista, ricordando anche tanti celebri attori che sono stati al suo fianco. Si avvicinava l'ora da chiusura e io Tomo Tomo stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Spettacoli bellissimi che non sono stati fermati neanche da una serata di pioggia. Infatti l'amministrazione comunale ha trasferito per una sera tutte le attività a Palazzo Sezzale e i tanti visitatori che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche erano arrivati a Cerisano, sono stati accolti dal concerto lirico dei vincitori della Masterclass. Subito dopo, il concerto di Robertinho De Paula in Rio Chiama Napoli ha calamitato l'attenzione per oltre un'ora di tanti amanti del jazz puro. Stasera gran finale con il concerto Le Romanze della Tradizione Napoletana, con Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello e per gli appassionati di teatro la simpatia e il brio di Marisa Laurito in Voilà Marisa.